Vieni a vivere l'autunno a Montecchio, vieni alla quarta mostra mercato Valle Foglia d'autunno il 25-26 novembre a Montecchio in piazza Municipio potrai scoprire le bontà del territorio, tartufi, melegrane, funghi, vino nuovo e olio evo domenica 26 novembre degustazione gratuita di polenta con i fagioli e alle ore 16 la musica della Tribute Band dei Queen in un grande concerto 25-26 novembre Valle Foglia d'autunno a Montecchio non mancare!